Anche il Museo Navale ha voluto prendere parte a questa giornata attraverso un'iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle scuole. Oggi il 4 novembre ricordiamo in questa giornata l'armistizio di Villa Giusti che di fatto concluse la Prima Guerra Mondiale e concluse il processo di unificazione d'Italia che partì dal risorgimento con le tre guerre di indipendenza e la guerra mondiale. E proprio oggi, oltre ad avere la gratuità del Museo, abbiamo organizzato due visite guidate, una alle 9.30 e una alle 14.30 in cui cercheremo di far rivivere quei momenti della storia italiana topici per la nostra nazione che di fatto ci consentirono di diventare una nazione riconosciuta, una grande nazione come quella che oggi siamo. Tramandare la storia alle giovani generazioni è fondamentale. Abbiamo approfittato di questa opportunità che ci ha dato la Marina per portare una classe a fare questa visita guidata che è sicuramente interessante per molti ragazzi. Imparare un po' la città in cui vivono, la storia che c'è stata. Una mattinata di studio un po' diversa dal solito per gli studenti del Cappellini Sauro. I ragazzi sono rimasti particolarmente affascinati dalla storia e dalla bellezza contenuti all'interno del museo. Questa visita al Museo Navale mi è piaciuto tantissimo il modellino della Merigo Vespucci in quanto mio papà è stato imbarcato su questa nave per due anni circa e comunque sono molto appassionato di questo mondo delle navi, essendo che frequento il nautico. Che cosa ti piacerebbe fare da grande? Da grande mi piacerebbe lavorare in Marina e appunto con mio papà e spero di riuscire a inseguire questi sogni. Una mattinata di studio un po' diversa dal solito? Sì, abbiamo fatto questa giornata per commemorare la Marina e tutti i caduti delle guerre passate. Secondo me questa giornata è molto importante perché così ricordiamo tutti quelli che sono morti anche non da eroi nelle guerre. Ho scelto questa scuola qua perché diciamo io in un futuro prossimo vorrei o andare in Marina o andare a pilotare gli yacht perché diciamo che mi ha sempre affascinato il mondo del mare e in generale come comandare.